Ciao a tutti e a tutti bentornati e bentornati in un nuovo blog Allora, ho aspettato così tanto registrare, c'è un motivo Ho avuto tante di quelle cose da fare anche perché sono triste in questi giorni, ve lo avviso Però, beh, non sono in condizioni, non ne ho voglia Ma non potevo saltare sei giorni e poi registrare Lunedì sono stata in Sport Cop E quindi poi abbiamo fatto, volevo disegnare io Invece non ho avuto quello che volevo Abbiamo creato una storia con i disegni che abbiamo fatto là E oltre a quello, devo ammettere, ci siamo abbastanza divertiti Poi mamma mi è venuta a prendere, nel pomeriggio sono stata a casa Perché non c'era nessun corso da fare in palestra E poi a parte quello, niente di che Sono stata tutto il giorno a casa, letteralmente Allora, io adesso vi saluto e vi mando un bacione E noi ci vediamo domani con il prossimo blog che adesso registrerò Scusate il ritardo ma perdonatemi Ciao Ciao